A Milano, dopo i disordini davanti a una discoteca, è scattato il Daspo per due rapper. Il rapper Rondo da Sosa, all'anagrafe Mattia Barbieri, dovrà restare lontano da tutti i locali di Milano per i prossimi due anni. Stesso provvedimento, ma esteso a tutta l'area metropolitana, per Zaccaria Moeweb, in arte Baby Gang, già finito nei guai per il maxi-assembramento dell'aprile scorso in piazza Selinunte. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti.